il san daniele il valore dell'eccellenza buongiorno dal prosciuttificio prolongo oggi sono a san daniele del friuli ospite della famiglia prolongo qui con me c'è arianna che ci racconterà la storia della famiglia e della nascita del prosciuttificio oltre a spiegarci che cosa caratterizza i loro prosciutti ciao arianna ciao paola bene arrivata grazie noi siamo uno dei prosciuttifici più antichi di san daniele e uno dei più piccolini l'azienda l'ha fondata il mio nonno giovanni dopodiché il mio papà lucio ha continuato e ad oggi io e mio fratello alessio siamo la terza generazione come terza generazione abbiamo proprio scelto di continuare a lavorare nello stabilimento storico nel cuore del paese in mezzo alle case produrre pochi pezzi all'anno tutti della massima qualità e con delle lavorazioni artigianali quindi fate a mano oltre a questo quello che ci caratterizza è proprio una stagionatura che è ancora al naturale quindi andiamo a lavorare e stagionare i nostri prosciutti senza aria condizionata ma proprio a prendo e chiudendo le finestre ogni giorno per far circolare bene brezza di mare e brezza di monte che sono un po il segreto del san daniele e voi come terza generazione che cosa avete innovato in azienda per noi è importante mantenere una tradizione ma anche essere un'azienda giovane e dinamica quello che conta moltissimo è che chiunque entri in contatto con noi quindi col marchio prolongo viva un'esperienza positiva e oltre a questo da qualche anno abbiamo proprio scelto di aprire le porte ai visitatori effettuare dei tour guidati per permettere a chiunque di scoprire un pochettino che cosa facciamo i nostri segreti il nostro lavoro e questi tour vengono effettuati sia in lingua italiana che anche in inglese e in tedesco quindi anche per i turisti stranieri e per i nostri amici dove possono degustare il prosciutto e acquistare il nostro prosciutto noi non vendiamo alla grande distribuzione ma lavoriamo proprio a contatto diretto con ristoranti gourmet e inoteche salumerie negozi di specialità oltre a questo abbiamo all'interno del nostro prosciuttificio un negozio dedicato per il cliente privato con una sorta di boutique del prosciutto e anche da qualche anno uno shop online per permettere a tutti anche a chi vive lontano da qui di ordinare anche piccole patità e riceverle direttamente a casa. Arianna grazie per averci fatto conoscere questa bellissima realtà artigianale del Friuli. Se siete in Friuli o se volete venire a visitare il Friuli per conoscere questo meraviglioso territorio e le sue eccellenze non potete mancare di passare di qua. Arianna e Alessio saranno felici di accogliervi nella loro azienda e dal prosciuttificio prolongo di San Daniele del Friuli è tutto. Ciao! Ciao!